Dopo l'ennesima rissa in centro storico con un giovane tunisino lasciato a terra incosciente, preso a calcio e pugni da un gruppo di egiziani, questa mattina si è riunito il comitato di sicurezza, coordinato dal prefetto Cinzia Torraco. L'ennesima rissa ha provocato un fuggi-fuggi dei cittadini in centro, spaventati per ciò che stava accadendo sotto i porti di San Berardino, luogo di ritrovo dei giovani che ormai è diventato invivibile. Alcuni esercenti si sono sfogati sui social parlando di una situazione ormai fuori controllo. Non semplici scazzottate ma anche stupri e tentativi di stupro, spaccio di droga tra giovanissimi. Insomma tutti episodi che all'Aquila prima non facevano cronaca. Il sindaco Biondi parla di una risposta che ci sarà ancora più massiccia ma chiarisce pure che sono episodi comuni ad altre città. Ci sono dei fenomeni diffusi che non riguardano solamente la città dell'Aquila e di cui si rendono responsabili soprattutto i minori stranieri non accompagnati che evidentemente non sono seguiti adeguatamente. Come amministrazione comunale abbiamo messo in campo delle azioni energiche dai 4 milioni per la videosorveglianza, l'ampliamento del DASPO urbano. Naturalmente c'è un confine fra l'inciviltà e l'illegalità che va monitorato. C'è naturalmente un'istanza di maggiore sicurezza su cui interverremo attraverso il lavoro consueto delle forze dell'ordine della polizia locale. Sui social in tante è nata una petizione online per chiedere più sicurezza. Chi da tempo solleva la questione sono i consiglieri comunali Enrico Verini e Gianni Padovani che già a tempo fa avevano scritto al prefetto per chiedere un pattugliamento a piedi della città. Pensate che in una giornata abbiamo soprato le mille firme e questa pressione io ritengo sia stata decisiva per la riunione del comitato. Ora aspettiamo il risultato perché il comitato può essere tutto o può essere niente. Se sarà una cosa tanto per far vedere continueremo e lo faremo ancora con un vigore maggiore. Se finalmente accoglieranno qualcuna delle proposte concrete, noi abbiamo fatto solo proposte concrete e le conoscono benissimo che potrebbero veramente quantomeno mitigare la situazione in questo momento vigente all'Aquila allora noi lo ammetteremo e lo diremo. Aspettiamo con fiducia ma siamo pronti a continuare la battaglia.